E Francesca ancora una volta torna al Palanorda, oggi insomma non ti abbiamo visto in campo, una stagione un po' di alti e bassi per Chiere, ti aspettavi altro là? Ma sì, mi dispiace non giocare in questo bellissimo palazetto, peccato per la tribuna, c'è sempre una lotta qua. Ti tiene aggiornata però? Sì, sì, assolutamente, mi è dispiaciuto non poter giocare ma ho un problema al piede, il mio solito piedone, niente, quindi Chiere non ha potuto contare su di me e vedremo sabato cosa si può fare. Senti, quanto ti manca Bergamo perché è inutile nascondersi, no? Ma mi manca, mi manca tutto questo calore che c'è intorno a questo palazzetto, la gente, ce l'ho comunque sempre nel cuore e ogni volta che vengo qua direi che sto bene, è una bella sensazione. Senti, può essere un arrivederci? Non al sabato, non al 20-30, un arrivederci diverso. Boh, chissà, vediamo, mai dire mai nella vita, chi può dirlo? Chi può dirlo?